Si chiama Abruzzo Inclusivo, il progetto presentato questa mattina di cui il Comune di Teramo è lente capofila. Finalizzato all'individuazione di 75 utenti in situazione di disagio familiare ed economico, questi avranno la possibilità di svolgere tirocini formativi retribuiti. È un progetto che la Regione Abruzzo ha finanziato con i fondi dell'FSE della vecchia programmazione, quindi 2007-2013, che si occupa di inclusione sociale, soprattutto inclusione lavorativa, dedicato alle categorie svantaggiate. Fra queste categorie ci sono gli over 45 anni disoccupati, persone con un reddito di 6 inferiore a 6.000 euro, extracomunitari, donne vittime di violenza, ex tossicodipendenti o ex detenuti. Quindi sono quelle categorie per le quali, dopo, dietro una selezione, si inizieranno ad attivare alcuni tirocini. Partner, la comunità montana della Laga del Gran Sasso, l'unione dei comuni con linea del medio umano. Quindi questi sono gli EAS, siamo quattro ambiti, più ovviamente quello di Teramo. Come progetto siamo i primi in Abruzzo, siamo stati valutati molto positivamente, perché è un progetto che prevede 5 mesi di tirocineo. Teramo attiverà 30 tirocini e gli altri ambiti 15 tirocini. Il bando è già stato pubblicato, si possono fare le domande fino al 16 giugno alle ore 12. Come al solito si può trovare lo schema per fare la domanda o sul sito del Comune oppure presso i servizi sociali in via d'Annunzio.